Benvenuti all'appuntamento del fine settimana targato Cusano Italia TV. Che bello! È sabato e quindi siamo prontissimi per iniziare questa nuova puntata, la 61esima puntata di Buongiorno Weekend in nostra compagnia, tutta Cusano Italia TV, ovviamente dietro a quella telecamera, proprio lì c'è in assistenza Lele Forcina, alla regia Lorenzo Fantini, ma ovviamente con voi si crea questa puntata. Voi che ci scrivete al 342 627 5717. Ormai si è creata una piccola grande famiglia proveniente da tutta Italia, in effetti, che ci scrive, ci segue a questo numero di telefono che ormai sapete a memoria. E io ringrazio sin da subito Gigi da Genova perché effettivamente ci ha scritto immediatamente, anche prima di iniziare la puntata. E quindi io ringrazio sempre voi per l'affetto con il quale ci seguite. Puntata ricca, ricchissima! Lo sapete che Buongiorno Weekend vuole fare questo, vuole essere un po' collaborato, frizzante, ma anche informare. E quindi di che cosa parleremo oggi? Ve lo spiego subito. Avremo tantissimi ospiti per parlare nella prima parte ovviamente di Buongiorno Weekend. Ci dedichiamo al benessere, all'informazione che parla di noi. E oggi parleremo di un tema molto molto importante, DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Che cosa sono? Il più importante, il più noto è sicuramente la dislessia e ne parliamo magari alcune volte anche in maniera errata, scorretta. Ecco, quindi è importante contro lo stigma, contro la disinformazione fare cultura. E oggi proveremo ad iniziare questo discorso con Paolino Gianturco. Lui è il coordinatore della scuola, del reparto scuola, insomma, dell'Associazione della Dislessia Italiana, quindi AID, Associazione Italiana della Dislessia. E con lui parleremo proprio di queste neurodivergenze, neurodiversità. Capiremo che cosa sono e come si può affrontare una vita serena seguendo queste nostre inclinazioni, queste nostre diversità. Subito dopo parleremo di cultura e lo faremo in danza, in movimento, perché tra pochissimo a Roma ci sarà un festival internazionale. La direttrice artistica Alessia Gatta e insieme a una danzatrice e ovviamente parte dello staff Matilde Corvito, in pratica ci parleranno insieme proprio qui a Buongiorno Weekend di Futuro Festival, questo festival internazionale di danza contemporanea, di danza e arte e cultura contemporanea. Parleremo di tutto questo e di quanto sia importante guardare al futuro, però avendo come sempre delle radici ben salde nel presente per capire il futuro. Subito dopo è sabato e quindi che cosa facciamo? Ci prendiamo un caffè, giusto il tempo di un caffè, con Danila Stalteri, grandissima attrice in scena proprio in questi giorni con un amico anche di Buongiorno Weekend, Leonardo Bocci, con una commedia divertentissima, ti va di sposarmi, chissà e capiremo che cosa voglia dire e se parla di amicizia o di amore questo spettacolo. Lo chiederemo a lei oltre a fare la domanda classica di giusto un caffè, cioè e lei che caffè si sente? Concludiamo la puntata di Buongiorno Weekend facendo una riflessione sul tempo. Spesso, e io per prima e lo vedete già adesso, corro, corro contro il tempo. Diciamo sempre di non avere abbastanza tempo per fare qualcosa, probabilmente anche per vivere, ma è effettivamente così. Forse dobbiamo soltanto organizzarlo meglio oppure dare il giusto valore al nostro tempo. Ne parleremo con un'esperta, ovvero Stefania Brucini, Productivity Coach, conosciuta anche sui social come Simplicini Shift e ne parleremo con lei proprio qui a Buongiorno Weekend. Io vi ringrazio sempre per l'affetto che ci ponete al 342-627-5717, spiegateci e diteci che cosa state facendo, da dove guardate Buongiorno Weekend e firmatevi soprattutto perché così io poi posso ovviamente salutarvi in diretta. Iniziamo la puntata perché è ricca di informazioni come vi ho anticipato e quindi do il benvenuto al primo ospite. Buongiorno Paolino Gianturco, benvenuto a Buongiorno Weekend. Buongiorno a voi, salve, piacere mio. Prego Paolino, benvenuto in questo studio colorato, frizzante pur essendo le nove del mattino, insomma ci proviamo ad essere svegli e attivi. Svegli e soprattutto volenterosi nell'affrontare quelle che sono tematiche molto importanti della nostra quotidianità. E quindi sono onorata di aver qui ospite proprio te, che sei il rappresentante oggi per noi dell'Associazione Italiana di Slessia AID. Prima ho detto che sei il coordinatore del comitato scuola, ecco il comitato scuola, perché capiremo quanto sia importante effettivamente parlare di scuola se parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento. Prima chiedo a te che cos'è AID, quindi che cos'è questa associazione italiana di Slessia e qual è il suo obiettivo quando è nata. Certo, sì. Intanto grazie per averci invitati e porto anche i saluti del nostro Consiglio Direttivo e della Presidente Silvia Lanzafame. L'AID è un'associazione di volontariato che è stata fondata quasi 30 anni fa, nel 1997, e che ha tre pilastri fondamentali, insomma le famiglie fondamentalmente, il mondo della scuola e il mondo dei tecnici sanitari, insomma neuropsicologi e tutti quelli che si occupano di questi disturbi specifici di apprendimento. Il nostro è un impegno di supporto alle famiglie, di sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di formazione e ricerca nel mondo della scuola e dell'università e anche di sensibilizzazione e formazione del mondo del lavoro e in generale proprio, insomma, di tutta la società italiana. Insomma, siamo al momento circa 12 mila iscritti e abbiamo 85 sedi territoriali su tutto il territorio nazionale, avendo poi naturalmente dei rapporti anche a livello internazionale, perché è un tema ovviamente di primo piano, di primissimo piano per noi, che ormai è venuto fuori a partire dalla legge 170 del 2010, per la quale naturalmente abbiamo collaborato in maniera molto diretta. Ma tanto per avere, come dire, dei numeri per capire l'importanza di questo tema di cui ci occupiamo come volontari, stiamo parlando di circa il 5% della popolazione italiana, vale a dire circa 3 milioni di persone che sono caratterizzate da questa neurodiversità, cioè hanno questa caratteristica, una caratteristica che può essere tranquillamente supportata e sostenuta se naturalmente vengono garantite le tutele e viene formata anche il personale scolastico innanzitutto, ma anche quello del mondo del lavoro e delle aziende. Assolutamente ne approfondiremo tutto questo, cercheremo di farlo nel brevissimo tempo che abbiamo a disposizione, per poi sicuramente poterne approfondire ancora altre volte, quindi già ti strappo questa promessa. Abbiamo capito che la diversità, alcune volte che viene stigmatizzata, criticata, ancora adesso, ed è veramente in controtendenza quasi, veramente una cosa vecchia. Se qualcuno è uguale all'altro? Esatto, no, in realtà no, però alcune volte questa diversità viene messa in una brutta luce, ecco, e soprattutto chi si sente diverso in qualche modo subisce una vera e propria violenza e anche si nasconde, vuole quasi scomparire per cercare di adattarsi a quello che il mondo evidentemente impone, che probabilmente non è così. Abbiamo capito un pochino meglio di AID, abbiamo accennato appunto che, abbiamo capito anche che si parla di disturbi specifici dell'apprendimento, ma chiederei alla regia di mandare il video che ci spiega nel vostro modo estremamente pop, ok, che cosa sono i DSA, così ce lo dice il video. Grazie, regia. La disortografia La disgrafia La disgrafia Ecco, questo per capire un pochino meglio di che cosa stiamo parlando, perché alcune volte parliamo sempre, sentiamo più spesso parlare di dislessia e lo utilizziamo anche in maniera impropria, spesso e volentieri, però magari le altre neurodiversità sono meno calcolate. Ecco, là mi è caduta anche la penna perché mi infervoro quando sento parlare di certi argomenti. Adesso non andiamo troppo nello specifico del spiegare che cos'è l'uno o l'altro perché non ne abbiamo in questo momento le competenze, però è importante parlare di tutto questo per aiutare le famiglie. Sì. Soprattutto perché quando possiamo capire che il bambino, quando avvengono i primi segnali di questa neurodiversità? Beh, diciamo, tecnicamente le prime diagnosi e certificazioni possono essere svolte nella seconda classe della scuola primaria e nella terza classe della scuola primaria, però siamo molto consapevoli e stiamo, come dire, supportando anche queste ricerche del fatto che i primi segnali possono essere visti già in un bambino della scuola dell'infanzia, insomma, per questo si attivano degli screening di osservazione dei comportamenti che a volte sembrano dei comportamenti problematici, ma sono delle conseguenze, a volte delle prime difficoltà che si incontrano già nella scuola dell'infanzia. Da lì possono emergere dei segnali che naturalmente le maestre della scuola dell'infanzia, ben formate e ben anche supportate, insomma, da questo punto di vista, possono individuare e quindi entrare in contatto con le famiglie per costituire quella che poi si chiama la famosa comunità educante, vale a dire la collaborazione che noi speriamo che ci sia sempre tra scuola e famiglia perché al centro c'è il bambino. Allora le famiglie a quel punto possono seguire un po' le indicazioni delle insegnanti che hanno fatto uno screening magari a un bambino che ha già cinque anni perché vengono fuori delle prime, insomma, difficoltà che potrebbero, potrebbero, insomma, rivelarsi come effettivi disturbi specifici di apprendimento, poi quando sarà un po' più grande, appunto, nella seconda e terza primaria, poi possono effettivamente venire fuori in maniera obiettiva. Pertanto l'attenzione deve essere puntata fin dall'inizio sul bambino, ma spesso le maestre lo sanno fare, devo dire. Devo dire questo, insomma, perché poi noi ci stiamo impegnando molto per svolgere attività di formazione e sensibilizzazione nel mondo della scuola, insomma, c'è ancora molto da fare, però, insomma, probabilmente noi possiamo dire che magari nei gradi di istruzione primaria forse c'è una consapevolezza ormai storica, no? Perché a partire dalla legge 170 è stata fatta molta formazione. Dobbiamo, naturalmente, insistere molto anche nella parte un po' più adulta. Infatti adesso ci arriviamo. In tutto questo, giustamente, abbiamo parlato della scuola, ma la famiglia, che sicuramente, pur osservando il bambino e soprattutto per amore del proprio figlio, alcune volte potrebbe ricevere questa risposta, questa diagnosi, perché ci vuole una diagnosi, ovviamente, in maniera negativa. Ecco, AID soprattutto, ma come interagisce con la famiglia? Beh, noi siamo, insomma, proprio una parte, AID è famiglia. Insomma, la nostra associazione cerca di supportare e fornire consapevolezza alle famiglie del fatto che noi non stiamo parlando di una patologia, insomma, non stiamo parlando di una disabilità, stiamo parlando di una caratteristica che è emersa, che è venuta fuori, che un tempo non si conosceva, insomma, che oggi si conosce e si può tranquillamente accompagnare, supportare. Naturalmente non si tratta di un disturbo di carattere transitorio, resterà per tutta quanta la nostra vita, non c'è alcun problema, non c'è problema se naturalmente conosciamo quelli che si chiamano come strumenti compensativi, misure dispensative, cioè gli strumenti che servono un po' a tutti per poi andare avanti, insomma, potremmo fare degli esempi, insomma, l'esempio più classico, insomma, io metto gli occhiali per vedere qual è il problema, me lo dite, insomma, ognuno poi trova il suo strumento e poi sappiamo anche bene che, soprattutto, se la situazione viene messa in evidenza fin da quando il bambino è piccolo, quando questo bambino cresce sa trovare la sua strada, ecco, questo noi diciamo alle famiglie, le supportiamo perché poi gli adulti sono in grado di fare delle cose straordinarie, perché questo va sottolineato, si tratta di un disturbo specifico di apprendimento e non riguarda le facoltà cognitive o il livello, insomma, il quotiente intellettivo. Il quotiente intellettivo di una persona con DSA è, insomma, nella norma o molto spesso anche superiore alla norma, quindi proprio non stiamo parlando di questo. Sì, anche perché abbiamo grandi esempi di persone straordinarie, in vero senso della parola, come Einstein, per esempio. Sì, si parla, insomma, di tutte queste cose. Certamente, abbiamo molte persone che hanno saputo trovare la strada alternativa. Ormai è una consapevolezza generale questa, ognuno di noi deve saper trovare la sua strada, insomma, è tutto qui. E soprattutto, appunto, con del potenziamento, insomma, si può migliorare. Abbiamo detto non guarire, perché non è una malattia. No, 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 si può supportare con gli strumenti adeguati, purché siano garantiti. Questo sì, nel mondo della scuola, dell'istruzione, dell'università e del lavoro. E del lavoro. E proprio qui arriviamo, perché giustamente adesso siamo anche fortunati. Un bambino che nasce in questa epoca, o da poco tempo fa, insomma, è fortunato perché ha già degli insegnanti formati, anche grazie a associazioni come l'AID, che ricordo è anche l'ente accreditato MIUR. Quindi siamo effettivamente fortunati, famiglie e bambini. Ma io penso a tanti adulti o tanti studenti universitari, qui siamo ovviamente all'interno dell'università Niccolò Cusano, e tantissimi lavoratori adulti, grandi, che non hanno scoperto, non gli è stato diagnosticato, magari non lo sanno ancora, di avere questa neurodiversità. Ecco, che cosa si può fare per loro? Allora, il nostro impegno è costante con i ministeri, istituiamo proprio dei tavoli istituzionali di confronto proprio con tutto il mondo, insomma, dei ministeri di coloro che devono garantire anche a livello normativo le tutele di queste persone. Cosa si può fare? Lo stiamo facendo. Per esempio, per il mondo dell'università noi stiamo chiedendo in maniera puntuale una vera e propria legge, perché è vero che la legge 170 è stata varata nel 2010, ma una specifica legge per il mondo dell'università noi la chiediamo. La chiediamo perché? Perché il mondo dell'università, per carità, è tutelato dalle linee guida della CNUD del 2014, cioè la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati e Rettore per le Disabilità e i DSA. ma le linee guida non sono legge, quindi purtroppo dobbiamo anche rilevare che non sempre, diciamo così, le tutele vengono garantite nel mondo universitario, per cui sappiamo anche bene che ci sono circa 20.000 studenti con DSA nel mondo universitario e circa il 20% abbandona l'università per le difficoltà che incontra e perché non vengono sempre garantite le tutele che sono gli strumenti compensativi adeguati e le misure dispensative. Idem si potrebbe dire nel mondo del lavoro, perché poi quando si entra nel mondo del lavoro si entra appunto in un mare nel quale, come giustamente hai detto, non tutti hanno consapevolezza, a partire anche dalle persone con DSA, perché è una consapevolezza che dobbiamo dire piuttosto recente questa. Anche in questo caso ci siamo spinti per ottenere la legge 25 del 2022 che garantisce le tutele alle persone che entrano nel mondo del lavoro e hanno un DSA. Tutele che significano consapevolezza anche da parte del datore di lavoro e questo ci sta portando a fare molta formazione, informazione e sensibilizzazione nel mondo delle aziende, ma c'è, dobbiamo dire, ancora molto da fare. Ma un adulto che sente, grazie anche a questi interventi come quello che stiamo facendo adesso, che forse riconosce, ha un campanello ad allarme, forse si riconosce in certe difficoltà, che chiederei alla regia. Abbiamo selezionato il secondo sito, dico alla regia, insomma, vorrei far vedere che cosa prova un dislessico nel cercare di leggere una pagina. Ecco, grazie al vostro, vedete che cambiano le lettere ovviamente per agevolare la lettura, però ecco, è una difficoltà. Se un adulto si riconosce in questa difficoltà, che cosa può fare? Una diagnosi tardiva è possibile? Sì, assolutamente sì, è possibile, ma quello che stiamo chiedendo è l'apertura di centri diagnostici in tutte le regioni italiane per gli adulti, perché non sono presenti in tutte quante le regioni. E solo in alcune aree del nostro territorio nazionale viene garantita la diagnosi per gli adulti e questo è un problema abbastanza importante, sul quale stiamo cercando di sollecitare le istituzioni. È molto molto importante, perché appunto è importante per le famiglie dei bambini, far capire loro che non è una malattia, si può vivere benissimo con queste neurodiversità, vanno gestite. Sì, devono essere gestite, devono essere garantite, devono essere tutelate, supportate e non bisogna mettere in secondo piano un bambino nella scuola e una persona nel mondo del lavoro, assolutamente no. Anche perché alcune volte poi è un effetto quello della timidezza estrema, della socialità, ecco, magari alcune volte si dà per scontato che sia una caratteristica invece emotiva della persona, caratteriale, in realtà probabilmente alla base c'è una difficoltà proprio di comunicazione e soprattutto di interazione. È vero, hai ragione, si tratta proprio spesso di effetti, di effetti secondari di un problema che non viene riconosciuto e quindi insomma mi sento timido, mi metto da parte, oppure insomma... Perché le famose letture in classe, leggi, alcune volte appunto fanno del male più che del bene. Può fare del male. Paolino, ovviamente AID fa base sulle persone, sui volontari, sono questa piccola grande community, quindi quanto è importante appunto divulgare tutto questo ma soprattutto avere un gruppo fornito di persone? È assolutamente fondamentale, siamo veramente un'associazione di volontari, siamo impegnati in tutti i settori sociali per la sensibilizzazione della società, proprio dell'opinione pubblica nei confronti di queste questioni. Un volontario AID può aiutare la famiglia, consigliarlo per sapere dove fare una certificazione, può andare a formare un insegnante della scuola primaria o un docente dell'università, può andare anche a volte insomma a insistere e battere qualche pugno sul tavolo di qualche ministro per ottenere quello che è giusto ottenere, insomma, e si rapporta poi con il mondo proprio della comunicazione perché è assolutamente fondamentale. Sì, siamo un piccolo esercito di volontari ma radicato in tutto il territorio nazionale, appunto 85 sezioni dicevamo, insomma, proprio perché è proprio importante che quando una persona, una famiglia, una mamma con un bambino che insomma ha delle difficoltà, non sa a chi rivolgersi, effettivamente noi ci siamo. E grazie per questo vostro lavoro perché poi diventa anche una missione. Ecco, grazie per la vostra missione ed edizione a tutto questo. Grazie davvero Paolino Gianturco, dirigente scolastico e coordinatore del Comitato Scuola AID. Grazie e ti strappo veramente questa promessa di poter tornare qui a Buongiorno Weekend, magari anche con altri referenti di AID perché secondo me è veramente un argomento da approfondire per parlarne correttamente e contro lo stigma. Giusto, grazie, grazie a voi. Grazie a te. Rimani qui perché intanto adesso andiamo in pubblicità, giusto un minuto di pubblicità e intanto continuate a scrivere al 342 627 5717. Tra pochissimo continuiamo a parlare di cultura, di danza contemporanea perché che cos'è per voi il futuro? Lo scopriremo tra pochissimo con Futuro Festival.